Il genio di Palermo, La bellezza salverà il mondo, è il titolo e l'iniziativa volta allo sviluppo del centro storico della città, ma sarà anche un brand, un marchio capace di selezionare le creazioni artigianali realizzate da artisti italiani e di diverse etnie che verranno esposte all'interno del complesso di Santa Cita. Un piano di marketing territoriale ad ampio raggio che coinvolgerà e favorirà l'integrazione civica, sociale e lavorativa delle diverse comunità che abitano nei quattro mandamenti cittadini. La prima è quella del Bangladesh, sono loro che rappresentano il 24% della popolazione locale, che guardano con fiducia al futuro ma chiedono dei quartieri vivibili e adatti alle loro esigenze. Questo progetto ha realizzato una comunità, un vivere bello insieme, e sicuramente la parte più simpatica, più bella è l'orchestra dei bambini, dove appunto sono rappresentate otto etnie, Palermo città della cultura, Palermo città del vivere insieme.